In un campo un po' diverso. Imparare la cultura classica giocando, studiando e andando a teatro. Tutto questo è possibile grazie ad una collaborazione nata fra il Centro Studi Vitruviani e le Scuole Fanisi per una nuova esperienza didattica. Tra le varie iniziative ha riscosso un grande successo il progetto denominato Vitruvio Docet con dei laboratori ludico-didattici. I ragazzi hanno imparato a conoscere Vitruvio, il primo libro del De Architettura, cominciando a guardare con occhi diversi le bellezze della città. Dalla quinta elementare alla terza media sono stati coinvolti circa 350 studenti, 11 insegnanti e 3 istituti, la Padalino, la Corridoni e la Gandiglio, per un totale di 74 ore di laboratori. Vogliamo raccontare ai giovani la memoria identitaria di questa città, basata su Vitruvio ma basata sulla sua storia, sulle sue tradizioni, e farlo in un modo nuovo giocando, giocando, facendo teatro, sviluppando le loro capacità espressive. Crediamo che questa sia una strada importante per lavorare con le scuole e per creare gli adulti di domani. Vitruvio è anche uno dei temi affrontati nell'ambito di fuoriclasse. È il festival che dal 25 al 27 maggio vede gli studenti calcare il palcoscenico del Teatro della Fortuna e affrontare argomenti universali. I ragazzi della Padalino, ad esempio, giovedì sera porteranno in scena uno spettacolo dal titolo Vitruvio Chi. Avvicinarsi alla figura di Vitruvio attraverso l'atto teatrale è un modo per giocare con i materiali e quindi digerire completamente la lezione, in qualche modo, quelli che sono i contenuti che si possono trasmettere attraverso un racconto teatrale. Il tutto avviene chiaramente con il linguaggio dei ragazzi, quindi molto dinamico, molto vivace, che toglie un pochino di paludato dal progetto. I ragazzi del liceo scientifico Torelli, invece, hanno elaborato delle schede sull'arco d'Augusto, le mura, la basilica di Vitruvio e il teatro romano con l'obiettivo di realizzare un poster e presentarlo durante un convegno organizzato dal centro studi il prossimo 23 giugno. L'iniziativa è stata curata da Laura Bertuccioli e Daniela Madei che hanno coinvolto i giovani anche in una caccia al tesoro nelle vie della città e mettendole alla prova con rebus e quiz di fronte ai monumenti, un modo divertente per diffondere la conoscenza della cultura. Alla fine del progetto formativo i ragazzi verranno valutati dal tutor aziendale dell'ente con la collaborazione dei tutor scolastici. È un portfoglio che i ragazzi si presenteranno alla fine del quinquennio e questo curriculum sarà considerato e valutato dalla Commissione dell'esame di Stato.